Che le strade italiane siano soprattutto al maschile non è una novità. Solo il 4% è dedicato alle donne. È quanto ci riferisce il quotidiano Il Messaggero. Da tempo però si sono mossi diversi gruppi culturali, non solo femminili, con lo scopo di arrivare ad una sorta di parcondicio nella toponomastica, considerando che sono pochissime attualmente le strade consacrate alle italiane famose. La maggior parte sante, martiri e madonne, mentre le scrittrici, le scienziate, le inventrici, le sportive, le artiste e le eroine sembrano finite in secondo piano. In tal senso consideriamo questa interessantissima proposta che parte da Taranto. Siamo con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, nonché consigliere comunale di Taranto. Nei giorni scorsi ha lanciato un'idea, una proposta, quella di intitolare delle strade, delle piazze della città di Taranto a quelle donne che si sono, donne tarantine, che si sono particolarmente distinte. È un riconoscimento non soltanto formale, ma in realtà sostanziale. Di qui l'idea di lanciare un contest per far sì che i cittadini segnalino quelle donne che appunto hanno acquisito dei meriti. In tal senso lei anche si è rivolta al sindaco e quindi l'idea, come dire, sta procedendo. Sì, sono molto contenta di questa iniziativa che era stata già lanciata per la verità circa due anni fa da me da Massimiliano Stellato come gruppo consigliare di Puglia Popolare, ma non aveva ottenuto un grande successo. Ci eravamo resi conto che le strade tarantine sono quasi tutte, oltre l'80%, indirizzate a uomini, poche le donne. Forse una Piazza Damerini come ultimo acquisto. Certo, siamo legati da un regolamento che dice che la donna deve essere almeno deceduta da dieci anni, però si può anche fare riferimento ad altre donne con un'autorizzazione del prefetto. Ci vuole la volontà politica. Questa volta ho ripreso questa iniziativa, rivolgeremo direttamente al primo cittadino. E devo dire che Rinaldo Melucci è stato veramente entusiasta di questa idea, mi darà una mano, cercherà di creare un tavolo tecnico per decidere come procedere. E il mio contest, lanciato sui social, per cui anche ringrazio te Luigi per avermi dato una mano, sta ottenendo un grandissimo successo. Sono tante le mail, tanti post, dei cittadini più comuni che mi danno dei suggerimenti in ordine alle donne, non solo tarantine, ma anche italiane, che hanno fatto la storia e spesso vengono dimenticate. Occorre dare anche una sterzata su questa cosa, perché se di parità di genere parliamo, dobbiamo parlare di parità di genere in maniera concreta e reale. E perché no? Partendo dalle strade, perché i nostri bambini e le nostre bambine devono imparare a conoscere il perché dell'intitolazione delle strade, chi sono i personaggi e cominciare ad aprire la loro mente anche verso queste conoscenze. Sono molto felice e invito tramite te tutti i cittadini che magari possono... È importante proprio coinvolgere la partecipazione popolare. ...nella pagina di Facebook, possono scrivermi nella mia email, possono rivolgersi all'ufficio della Consiglia di Parità a darmi le loro indicazioni, perché io sto annotando tutti i nomi che voi mi state mandando ed è importante questa partecipazione. Ho visto che quindi la sensibilità c'era e non solo da parte dell'ONU, ma devo dire anche da parte di tanti uomini che stanno veramente collaborando e di questo vi ringrazio. È il momento in cui la nostra sensibilità può farci ottenere dei risultati. Vorrei Taranto capofila in questa battaglia.